Leonardo Silva Revisore Fin da piccola mi insegnarono le buone maniere. Mi dicevano che la postura, il portamento, erano le cose principali. La passione e le emozioni non erano cose per una contessina. Ma a me piaceva arrampicarmi sugli alberi, correre, schiamazzare. Ero una bambina appassionata. Mio nonno, quando mi vedeva andare a giocare, mi diceva, Maria Cristina, corri piano e urla d'agio. Ma come si fa anche solo a pensare a un controsenso del genere? Mia mamma mi avrebbe voluta con la gonnellina blu e le camicie smerlate. Mio padre, invece, di nascosto, mi ricordo che mi portò a comprare degli stivali da cowboy, che ancora conservo. E quando purtroppo morì prematuramente, io avevo solo undici anni e mezzo, ricordo che mi dissero, non farti vedere e piangere in pubblico. Le emozioni sono smancerie inutili. Devi tenere un comportamento sempre distaccato da tutto. Non era per me. Quella non era la mia natura. Io avevo un fuoco che ardeva, fin da piccola. Perché tutti, quando nasciamo, sappiamo esattamente che cos'è la passione. Così, a diciotto anni, dopo quindici anni di suore angeliche che cercarono di rendermi ancora più fredda di quello che cercò di fare la mia famiglia, vedi che il clan mediterraneo, un villaggio vacanziero, come lo chiamiamo noi, cercava persone per l'equipe sportiva, intrattenitori, hostess, qualsiasi cosa, pur di poter essere in un certo senso libera, libera di esprimersi. E partì, esattamente due giorni dopo la maturità, con la fatidica frase di mia madre, se esci da quella porta non rientrerai mai più. Spesso i genitori lo dicono, ma grazie al cielo, poche volte lo fanno veramente. Lì ebbi il primo assaggio di libertà. Perché potevo essere in fondo ogni giorno diversa, ma ero ogni giorno un personaggio che mi dicevano di essere, e anche lì non era per me. Quel fuoco che ardeva dentro mi diceva che io dovevo sperimentare, dovevo vivere fuori dagli schemi, ovviamente con rispetto sempre del mio prossimo. E allora, tornando un po' con le pive nel sacco, convinsi mia madre a sponsorizzare la mia prima vera passione, la gemmologia. Mio papà, quando tornava dai suoi innumerevoli viaggi, mi portava dei cristalli, delle pietre semipreziose, che io passavo delle ore a guardare la luce, come le attraversava, come si rifrangeva sulla superficie, e immaginavo dimensioni diverse da quelle algide e inespressive dell'educazione che mi volevano impartire. Così riuscì ad andare a New York a studiare gemmologia, e lì sì che fu il secondo sorso di libertà. A New York puoi essere chiunque tu voglia, nessuno ci fa caso. E quindi ogni giorno tra parrucche, copricapi, veramente io riuscivo a essere libera. Ho viaggiato, ho visitato molti luoghi, ho provato a sposarmi, non ho potuto avere figli e mi son detta forse la mia missione è un'altra. Forse la mia missione è ascoltare questa passione che mi fa saltare su tutti i treni che mi passano accanto. Anche quelli dei quali avevo il sentore che andavano a schiantarsi. Un vero talento da piccolo kamikaze. Ma sapete, quando si sbaglia così tanto, si impara anche così tanto. Un giorno, non per caso, perché per me il caso non esiste, incontrai in un locale milanese un ragazzo di bell'aspetto, mezzo libico, mezzo tedesco, Karim. Karim mi disse che lui era il consigliere dei Sadi Muhammad al Gheddafi, il figlio prediletto del colonnello Gheddafi. Io pensai fosse una butade per fare colpo, e invece era vero. Quando approfondimmi la conoscenza, lui cercò di convincermi in tutti i modi di andare a lavorare per loro. Mi disse, Cristina, loro sono in fondo dei beduini, si vogliono affacciare l'Europa, e tu saresti perfetta con i tuoi modini, parli le lingue. No, Karim, non mi interessa, è una cultura così lontana da me. La Libia poi era sotto il grande embargo, quindi dove sarei andata? Chi mi avrebbe protetto? Così, un giorno, mentre ero nel centro storico di Milano, Karim mi chiamò e mi disse, dove sei? Karim, sono in centro. Come sei vestita? Per caso hai indosso qualcosa di scollato, aderente a sex? Karim, sono le quattro del pomeriggio. No. Allora vieni, perché l'ingegner Sadi, tutti lo chiamavano ingegner Sadi, vuole incontrarti. Una voce dentro di me, al pari di un ventriloquo, rispose, sì, va bene. Maledetta questa passione ogni volta di cacciarmi nei guai. Un mio caro amico, un avvocato molto importante di Milano, un giorno mi disse, sai Cristina, io ho pensato molto a questo tuo talento di ficcarti incessantemente nei guai. tu sei come un pollo. Ero già sulla difensiva. Sì, un pollo astuto, ma un pollo che ogni volta lascia il suo habitat naturale, il pollaio, e va ad avventurarsi nel bosco. Nel bosco anche il lupo più stupido ti può sbranare. È vero. Karim mi stava attraendo nel bosco e io accettai. E così. La prima volta che atterrai a Tripoli era il febbraio del 2002. Vi ricordo, periodo del grande embargo. Mentre stavo atterrando c'era, peraltro, in corso una terribile tempesta di sabbia. Io cercavo di vedere quello che succedeva fuori dal finestrino, ma questo muro di sabbia impenetrabile non mi permetteva di vedere niente. Pensai alla metafora del pollo, ma era troppo tardi. Quando atterrai, mi ritirarono il passaporto e mi portarono letteralmente, come un pacco postale, al Grand Hotel Al-Khebir, che di grande aveva solo le dimensioni ormai. Il passato del re Idris, prima della famiglia Gheddafi, era passato. Lì mi lasciarono due lunghi giorni a decantare da sola, senza comunicazioni perché il cellulare non funzionava, le carte di credito non funzionavano e non potevo avere una comunicazione esterna, avrei dovuto lasciare un deposito cauzionale, ma le carte di credito non funzionavano. 48 ore, dove io non sapevo neanche cosa provare. Emozione, adrenalina, paura. Nessuno sapeva dove mi trovassi. In realtà nemmeno io sapevo dove mi trovavo. Finalmente, dopo due lunghi giorni, arrivò la gognata telefonata. «Cristina, ce n'erai con l'ingegner Sadi. Mi raccomando, vestiti elegante, ma indossa una cosa consona, e sarete solo lui e te». Va bene, ok. Ero curiosa. Avevo paura, ma ero curiosa. Attraverso posti di blocco e militari, armati fino ai denti, arrivai al castello numero 9, una delle tante residenze omaggiate al colonnello Gheddafi, quella in particolare in stile marocchino, alle soglie delle dune, era stata regalata dal re Hassan del Marocco, allora defunto, per una qualche celebrazione. e io mi ero immaginata, sapete quelle cose alla Sherazada, le mille e una notte, e in realtà, al di là dell'agnello intero, ripieno di frutta secca e riso, che è quello che fanno per gli ospiti di riguardo, l'ingegner Sadi mi ricevette in un modo abbastanza semplice. Se non fosse per una coppia di due tigri albine che passeggiavano mansuetamente nel parco limitrofo, ma mi dissero subito, «Cristina, la prima frase che imparai in arabo, ma fish muschela, nessun problema». non hanno più né le zanne né le unghie. Da quella notte io rimasi tre anni a Tripoli, tre anni di passione, di adrenalina, di… non so neanche come dire, perché quando racconto queste cose delle volte dico, «No, non è la mia vita, è un film, un film peraltro che vivevo di una trama nemmeno a me conosciuta». mi chiesero di fare cose talmente varie e variopinte che mai con la mia più fervida fantasia non solo avrei pensato di poter ottenere, ma di poter portare a termine. una mattina mi svegliarono in fretta e in furia e mi dissero, «Cristina, è nato il nuovo figlio, il re del trono del re del Marocco, Mohammed VI. Vai, scegli, compragli e portagli un regalo». Come faccio ad andare dal re del Marocco? «Celp, ma fish muschela, nessun problema, lì era tutto, ma fish muschela». scelsi una culla dorata che dovetti assemblare, tipo mobile dell'Ikea, sotto gli occhi attenti di mamma Lalla Salma. Un'altra volta l'ingegner Sadi mi chiese «Voglio un megacquario con degli squali vivi». Facile. Uno degli ultimi eventi fu la Supercoppa Juventus Parma. Gli occhi di calcio, non sapevo niente. Tre anni dove io ho permesso alla passione di nutrirmi giorno dopo giorno e di condurmi mano nella mano con una cultura che, vi assicuro, con tutto il rispetto e l'umiltà, la grande umiltà che mi ha insegnato questo triennio, non avrei mai saputo come affrontare. Ho ricercato questi sentimenti, queste emozioni. Quando si dice «ho attraversato la steppa», l'ho attraversata davvero. Ho viaggiato per quattro anni di seguito tra la Mongolia e la Siberia, studiando sciamanesimo. «In quei luoghi così deserti forse solo la passione ti salva, perché nel nulla ci si perde o ci si ritrova». Io lì, proprio grazie a una delle cerimonie più potenti sciamani che la caccia all'anima, sono riuscita a capire qual è la mia passione. Lo sciamano suona il tamburo per entrare in estasi, scende nell'underworld, nel mondo sotterraneo dove albergano gli spiriti, e lì va a recuperare questa nostra parte viscerale, quella parte più animale, che se noi ascoltassimo non sbaglieremmo mai, perché è l'istinto. E quando noi nasciamo sappiamo esattamente qual è la nostra missione. A ritorno dalla Siberia mi sono resa conto che forse era un po' come l'alchimista per Paolo Quello, non c'era bisogno di andare così lontano, ma sapete, la passione si raggiunge solo se prima ci si libera. Non c'è passione senza libertà, ma non c'è libertà senza passione. Nelle tribù animiste della Birmania che ho visitato si dice che se prima non ti sposi, non ti unisci al tuo sposo sotterraneo, non potrai mai amare, non potrai mai essere libero. E quando me lo dissero io dissi, sì, ho capito, ma chi è il mio sposo sotterraneo? Sono le vostre paure, le fobie, i dubbi. I sei ma, eh ma se vado in Siberia farà freddo, ci sono delle zanzare così. Noi siamo degli eccezionali boicottatori di noi stessi. Il dubbio è il nemico numero uno della passione. Anche la paura, in un certo senso, non è un buon alleato della passione. Perché avere troppo coraggio ti espone. La paura è un sentimento naturale, così come la passione. E come mai ci dimentichiamo di appassionarci anche alle cose quotidiane? Sbagliando così tanto. Grazie a Dio ho imparato. Se avessi più di quindici minuti, vi racconterei in modo più ampio quello che ho imparato, ma necessariamente lo devo riassumere in tre punti. Il primo, ho imparato a lasciare andare. Lasciare andare un dolore, la fine di una relazione, un'amicizia. Lasciare andare il passato. Sapete, lasciare andare anche le cose materiali, perché occupano spazio. Non c'è spazio per nuove passioni, se prima non lo generi. La seconda cosa, i giapponesi la chiamerebbero wabi-sabi, è il concetto di trovare la pace nell'imperfezione. È bellissimo essere ogni giorno la versione migliore di noi stessi, di continuare a imparare. Ma arriva un certo momento in cui dobbiamo un po' abbassare la guardia e amarci per quello che siamo, accettandoci per quello che siamo. Il terzo punto è quello più caro in assoluto a me. Ho capito che la passione e la libertà di essere me stessa, colei che sono diventata con i miei buffi copricapo e le mie battute poco aristocratiche. È l'unica cosa per la quale voglio lottare, l'unica cosa per la quale valga la pena di lottare. E se il mio amico della metafora del pollo, astuto o fesso, disse lui che ero astuto, se Guido fosse ancora qua io gli direi sai, tu hai ragione, io sarò un pollo. Ma io ho capito che nel pollaio, nella mia zona di comfort, non c'è passione per me. Io ho bisogno di avventurarmi nel bosco, consapevole che ci può essere un dirupo, un lupo, un carnefice travestito da lupo. Io voglio andare nel bosco. Magari con un'analisi prima del rischio o un paracadute. Ma ricordatevi una cosa, non c'è passione, non c'è sogno, non c'è avventura se voi avrete paura di entrare nel bosco.